Aveva giocato con la squadra di calcio olimpia agnonese dal 2020 al 2021, poi aveva lasciato la cittadina alto molisana per nuove destinazioni. Nell'Atene del Sannio era stato solo di passaggio e tuttavia la notizia dell'ergastolo ora e dell'arresto lo scorso anno con l'accusa di omicidio ha lasciato costernati sia la comunità sia la società sportiva. Giovanni Padovani, oggi 28enne, aveva indossato la maglia granata con il ruolo di difensore quando il club militava nel campionato di Girone F. Aveva disputato in campo solo poche partite e forse nessuno ad Agnone avrebbe immaginato che di lì a poco avrebbe dovuto rispondere dell'accusa di aver aggredito e ucciso a Bologna l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni, sotto casa di lei. Ora è arrivata la condanna all'ergastolo. Come riferisce l'Ansa, la Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, dopo due ore di Camera di Consiglio ha emesso il verdetto riconoscendo nei confronti dell'ex calciatore e modello di origini marchigiane le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi e abbietti e della premeditazione. Stefania, come è emerso in aula in base alle notizie d'agenzia, venne uccisa a calci, pugni, martellate e infine colpita con una panchina. Prima della Camera di Consiglio, Padovani ha dichiarato Non sono più quell'uomo, non ci stavo con la testa, ma se ritenete che sia normale ammazzare una donna bella e intelligente come Alessandra, allora merito l'ergastolo. Se riconoscete un disturbo in quello che ho fatto e che ho ancora, allora considerate tutto senza farvi influenzare dall'opinione pubblica.